Di nuovo assieme con il primo ospite di questa odierna puntata di Prima di Tutto, un benvenuto e un bentornato al manager dell'Asta di Termo, Giustino Varrassi. Grazie a lei direttore e grazie ai telespettatori che staranno a quest'ora guardando la televisione. Mi auguro che non abbiano a farsi ritornare il sonno in qualche modo. Non credo anche perché diamo diversi temi sicuramente di attualità interessanti da trattare. Professore partendo poi da quello che un tema avevamo visto anche nella rassegna stampa su questo sciopero, il reparto di oncologia, sciopero della fame, annunciato da alcuni pazienti, dagli infermieri, a questi poi si è aggiunto anche ieri il blogger Giancarlo Falconi. Si protesta, ci si lamenta dicendo che c'è poco personale, protesta che sembrerebbe partire proprio dai pazienti. Come stanno le cose? Guardi direttore, io come stiano veramente le cose non lo so, io le posso dare la mia versione dei fatti che è la conseguenza di una indagine che io ho fatto attraverso il direttore del dipartimento. Il direttore del dipartimento che ha parlato personalmente con il caposala dell'oncologia mi dice che lì la situazione non solo va bene, ma anzi va benissimo. La situazione dell'oncologia è divisa in due realtà, poi se andiamo ad analizzarla, cioè una realtà che è quella che dovrà essere nel futuro, cioè la realtà dei hospital e dell'attività ambulatoriale e una realtà del reparto. Ora apparentemente da quello che si legge sui giornali, ma che poi non risponde a quelle che sono le risultanze delle mie indagini, i problemi sono nel reparto. Bene, io su questo credo direttore che vada fatta un po' di chiarezza con i nostri telespettatori, perché una oncologia medica non dovrebbe averlo il reparto. Oggi l'oncologia a livello internazionale è solo ed esclusivamente attività di dei hospital e di ambulatorio, quindi evidentemente anche con i nuovi farmaci che si assumono per via orale, cioè voglio dire il mondo della medicina per fortuna si evolve e si evolve molto bene. Quindi evidentemente il reparto di oncologia è un reparto che ospita impropriamente dei pazienti che non dovrebbero essere in quel reparto, ma dei pazienti che dovrebbero essere nell'ospice. E qui, ripeto, forse vale la pena di fare un minimo di chiarezza con i nostri telespettatori. L'ospedale Mazzini, la ASL di Teramo, ha avuto finanziato un ospice ben 12 anni fa, cioè nel 2000-2001. Questo progetto dell'ospice è rimasto finanziato ufficialmente con un finanziamento extra anche da parte della fondazione Tercas, con una progettazione già definitiva da allora e che avrebbe dovuto essere collocato nell'ex sanatorio, sempre nell'area di Villa Mosca, è rimasto depositato in un cassetto per almeno 7-8 anni. Quando io sono arrivato qua e che io abbia degli interessi nei confronti, interessi professionali dico, nei confronti dei pazienti terminali e dei pazienti oncologici, credo che sia possibile capirlo per ognuno, perché basta andare, per esempio, sul sito del Ministero della Salute e vedere la composizione della Commissione Nazionale per le cure palliative e la terapia del dolore e ci si trova il mio nome dall'inizio della storia di questa commissione che rimonta molti, molti anni fa, rimonta alla fine degli anni Ottanta addirittura. Quindi evidentemente il mio interesse professionale, la mia passione è stata un po' anche quella, è chiaro. Quindi quando io sono arrivato qui a Teramo a dicembre del 2010, io ho riesumato da un cassetto questo progetto e la riesumazione di questo progetto ha portato alla canterizzazione dell'ospice e l'ospice sarà ufficialmente consegnato alla ASL, i locali poi nel giro dei 30 giorni successivi, come è emerso da una riunione fatta proprio qualche giorno fa, dicevo l'ospice sarà ufficialmente consegnato alla ASL dalla azienda che lo sta costruendo alla fine di marzo, quindi ci siamo quasi, tra poco più di due mesi. Bene, io penso di stare a fare molto per risolvere questa problematica. Certo, se poi qualcuno si vuole divertire, per esempio, a riportare ogni giorno sulla stampa per motivazioni che però nulla hanno a che fare con la sanità, è bene che i nostri telespettatori lo sappiano. Se uno vuole continuare a portare temi come, per esempio, una cappa a flussi laminari che sta depositata in una stanza del Mazzini e che avrebbe dovuto servire a fare i farmaci in estemporanea per l'oncologia e che, essendo in un locale che poi è risultato, secondo le nuove norme, non più a norma e si è pensato di utilizzare solo ed esclusivamente invece l'ambiente per la produzione di farmaci che è nell'ospedale di Giulianova, lo può fare benissimo, non è un problema, le polemiche, i giornali vivono di polemiche, lei è giornalista, quindi sa molto bene che di polemiche si vive. Certo però mi meraviglia non poco, direttore, e questo mi preme dirlo, che Berlusconi che ha fatto scuola di televisione e di pubblicità non abbia insegnato nulla evidentemente a chi si diverte a continuare a portare alla luce solo ed esclusivamente cose negative, quando invece alle risultanze delle mie indagini l'ospedale funziona molto bene, l'ospedale Mazzini, e il reparto di oncologia è sicuramente uno dei migliori che c'è all'interno dell'ospedale, quindi se poi uno vuole andare a cercare le situazioni spot, gli insoddisfatti stanno dappertutto, lo sappiamo benissimo, cioè non è certo una cosa che dobbiamo noi insegnare. Sul reparto di oncologia si era accesa una polemica anche durante l'estate, il problema è legato, come dice qualcuno, al fatto che c'è solo un medico o comunque il personale si è ridotto rispetto all'esigenza, lei in premessa faceva una differenziazione importante, e parlava anche del discorso legato all'ospedale, questo rientra nel progetto dell'attivazione completa del polo oncologico? Ma guardi direttore, io non voglio entrare, mi sentirei anche di essere offensivo nei confronti del direttore dell'oncologia della nostra ASL, non voglio entrare nei problemi di organizzazione, però un aspetto generale va chiarito sempre a favore dei nostri telespettatori, perché sappiano di cosa si sta parlando. L'unità operativa complessa di oncologia di Teramo, solo quella di Teramo, ha ben sette medici. Ora, l'organizzazione di questi sette medici certo non compete a me, ma compete al direttore dell'unità stessa. Al lato di questo noi abbiamo altri quattro medici nella ASL che fanno l'oncologia e che sono nella unità operativa semplice dipartimentale che cura i pazienti oncologici di Giulianova e Sant'Omero. Dicevo, con sette medici, caro direttore, si fa l'assistenza H24 in un reparto di chirurgia che ha sicuramente una produttività molto maggiore a quella che può avere il reparto di oncologia. Quindi, io ripeto, poi non voglio entrare nelle problematiche di organizzazione interna del reparto perché non mi competono, chiedo scusa, ma sta di fatto che queste lamentazioni che vengono fatte sui giornali, io non so da dove traggano origine. Io so, per esempio, che il reparto di oncologia, dove vengono appunto tenuti i pazienti terminali che non dovrebbero essere lì ma all'ospice, come ripeto, tenuto da due oncologi e cioè la dottoressa Benaguale e il dottor Foglia, è un reparto che funziona benissimo. Mi meraviglio, per esempio, di come invece nel reparto non vengano tenuti in turnazione anche gli altri medici, avendo anche la possibilità di avere una crescita di tutti i medici del reparto sia sulla parte strettamente inerente, l'attività di dei hospital e di attività ambulatoriale che su quella di ricovero dei pazienti terminali. Però, ripeto, questo è un problema che esce dalle mie competenze perché riguarda solo ed esclusivamente il direttore... Sì, è un problema strettamente organizzativo sul quale io non voglio entrare. Certo, se si dichiara ai giornali, qualcuno dichiara o qualche giornale dichiara da quanto mi sta dicendo lei che c'è un unico medico per 27 malati si sta commettendo un errore grossolano perché lì di medici ce ne sono sette. Domani è annunciata questa protesta, questo sciopero. Lei farà visita a chi sta scioperando per spiegare le ragioni come le sta spiegando a noi qui adesso? Ritiene giusto confrontarsi? Purtroppo non ci potrò essere perché sono fuori, sia parto oggi pomeriggio e rientro domani sera. Ma il problema io penso che sia ancora una volta una problematica che fuoriesce da quelle che sono le reali problematiche assistenziali e che mi riguardano. Cioè, ognuno di noi è libero di scioperare. C'è Pannella che è arrivato, beato lui, a oltre 80 anni in una forma fisica splendida facendo ogni tanto uno sciopero della fame, io farei molto bene a farlo ogni tanto uno sciopero della fame visto che guadagno chili stando seduto tutto il giorno dentro l'ufficio di Viale Ragusa quindi evidentemente possono esserci ragioni diverse da quelle che sono, quelle reali assistenziali. Quello che le posso garantire, direttore, è che io ho parlato con molti malati dell'oncologia di Teramo e tutti sono molto soddisfatti del reparto in cui sono stati curati e anche molto soddisfatti delle cure ricevute nel day hospital. Chiedo scusa ma stamattina evidentemente il freddo intenso improvviso ha causato qualche problema alla mia trachea. e quindi evidentemente, le dicevo, direttore, io non posso che prendere atto di quelle che sono le risultanze delle mie indagini. Poi se tra l'altro, come ho detto prima, da quanto mi ha riferito ieri sera alle 8 il direttore del Dipartimento delle Medicine che ha parlato direttamente con il caposala del reparto di oncologia il quale gli ha affermato che lì va tutto benissimo poi le deduzioni le faranno i nostri telespettatori, le faranno i pazienti e capiranno quali sono le reali motivazioni per cui qualcuno che è insoddisfatto evidentemente si lamenta perché è normale tra l'altro, secondo me, che ci siano persone che si lamentano ed è anche un bene, direttore, che ci siano persone che si lamentano perché ci inducono a migliorare i nostri processi lavorativi che è una cosa positiva e anche a renderci conto di cosa veramente la gente o almeno alcune persone vogliono. Diamo questo sms. Professor Varrassi, perché all'Aquila a Chieti si inaugurano nuove apparecchiature come la PETA acceleratore lineare a terra moniente e il mega appalto per il secondo lotto del Mazzini quando parte lei ha grandi progetti, speriamo vengono portati a termine, dice questo telespettatore. Io ringrazio questo telespettatore perché mi dà modo di chiarire un altro aspetto importante. Allora, nella ASL, come è stato riportato dai giornali in questi giorni, nella ASL di Teramo esisteva un servizio di PETTAC che, se non mi ricordo male, era stato installato, credo, mobile su camion, che era stato installato, credo, ad Atri, se non mi ricordo male, a un certo punto non sotto la mia direzione ma pare anche per interessi di qualcuno dei nostri oncologi questo servizio di PETTAC o comunque con l'intervento di qualcuno dei nostri oncologi questo servizio è stato dismesso. Noi abbiamo già riattivato, io vorrei dirlo chiaramente ai nostri telespettatori, noi abbiamo già riattivato la gara, che è in fase avanzata di processo, la gara per riacquisire il servizio di PETTAC, anche per una riflessione elementare, direttore. La nostra azienda spende oggi un milione, un milione e mezzo di PETTAC fatta fuori dalla nostra azienda e noi abbiamo fatto i calcoli che tutto sommato ci conviene riprendere un servizio di PETTAC presso la nostra azienda perché già recuperando questa mobilità passiva ce lo siamo ripagato. A lato di questo faccio la solita osservazione che faccio sempre quando voi giornalisti mi invitate, purtroppo vivendo all'interno di una pubblica amministrazione non è che posso io prendere il telefono, chiamo un'azienda che ha la PETTAC e gli dico domani mattina cominciatemi il servizio, mettiamoci d'accordo sul prezzo. Non è così elementare. Non è così elementare. Se facessi il manager di una casa di cura lo potrei fare, così non lo posso fare. Devo seguire tutta una serie di procedure che essendo una gara di livello europeo significa almeno dai sei mesi a un anno di procedure per poter seguire quelle che sono le leggi dello Stato. Quindi questo percorso comunque è avviato? È avviato già abbondantemente. Io mi auguro che finisca prima che io vada via dalla ASL di Teramo. E lei quando andrà via dalla ASL di Teramo? Ma come stanno le cose in questo momento? Potrei andare via da un giorno all'altro? Come potrei rimanere fino alla fine di novembre di quest'anno? Questa sua riflessione poi favorisce l'altra domanda. Ovviamente il fatto che si generano delle polemiche, si parlava del reparto di oncologia, nei giornali oggi si riportava anche il discorso relativo al servizio di guardia medica nelle zone montane, la possibile soppressione. Ritiene che il fatto che Varrassi magari sia quasi alla fine di questa avventura, poi genera questa polemica, bisogna screditare necessariamente dal suo punto di vista la direzione dell'azienda sanitaria. Lei ritiene che in questo momento le polemiche siano più forti in relazione a quello che è il suo percorso? Ma direttore, guardi, io non vorrei rivangare vecchie storie, ma il mio arrivo qui, che è coinciso con una rivisitazione dell'organizzazione dei servizi di emergenza del 118, fu costellato di polemiche, come lei sicuramente ricorderà, di polemiche incredibili. Sta di fatto che la riorganizzazione che facemmo all'epoca ha fatto risparmiare alla Asla alcuni milioni di euro e non ha generato nessun tipo di disservizio sulla popolazione. Lei ha parlato adesso di questa faccenda, di questa ultima polemica che sta sorgendo, non so chi la abbia originata, sulla potenziale chiusura del servizio di guardia medica in alcuni comuni montani. Bene, io credo che sia ancora una volta doveroso chiarire con i nostri telespettatori, per dovere di onestà, come stanno veramente le cose. A, noi abbiamo ricevuto una disposizione ben precisa dalla Regione che alcune sedi che hanno una produttività bassissima debbano essere necessariamente chiuse, perché non si può giustificare la spesa di un medico per una sede in cui, ed è la sede di cui si parla, in cui c'è 0,3 prestazioni al giorno. Cioè significa, scusi se non sono stato chiaro, significa che quella sede di guardia medica opera una volta ogni tre giorni. e come opera? Opera con la prescrizione di farmaci a qualche paziente locale che va lì al medico di guardia medica per farsi prescrivere le medicine. Lei capisce bene, direttore, che non è che stiamo in un momento di grande fulgore economico che ci possiamo permettere di continuare a utilizzare il danaro pubblico così come vogliamo. Forse un minimo di rivisitazione di queste problematiche è doveroso da parte nostra. E allora, se noi abbiamo, e qui chiudo, se noi abbiamo una sede in cui si fa 1,2 prestazioni al giorno e in un'altra accanto in cui si fa 0,3, forse è il caso di fonderle in maniera che abbiamo 1,5 prestazioni al giorno quindi di ottimizzare risorse personale sotto questo punto di vista. Che già mi sembra, scusi, se lei ci pensa un attimo, i nostri telespettatori mi auguro che ci stiano pensando, avere per una sede di guardia medica 1,5 prestazioni al giorno è quasi offensivo per l'intelligenza del medico che ci sta lavorando perché significa che non potrà mai crescere professionalmente. Certo, vediamo un altro sms. Si riuscirà a fare il parto in dolore anche a Teramo? Ma io sono sicuro di sì. Io sono sicuro di sì. Ho avuto un incontro recente con i componenti del Dipartimento Materno Infantile. Abbiamo precisato alcune questioni. Lì ci sono delle problematiche che riguardano anche la parte logistica perché purtroppo per scelte molto precedenti alla mia il Dipartimento Materno Infantile è stato in qualche modo smembrato nel Mazzini. Ora speriamo, stiamo lavorando, proprio ieri ne abbiamo ridiscusso di nuovo, stiamo lavorando perché questo possa essere modificato e quindi di conseguenza poi avremo sicuramente la possibilità di fare la parto analgesia anche a Teramo che peraltro da quanto risulta attualmente è diventato un lea per la nazione. E non a caso vorrei ricordare, direttore, che anche in questo io ho cominciato a fare delle battaglie alla fine degli anni Ottanta convincendo il mio amico, grande amico, professor Caminiti, che era un deputato della Repubblica dopo essere stato primario anestesista di Reggio Calabria a presentare un disegno di legge proprio sulla parto analgesia a livello nazionale. Oggi finalmente questo è diventato realtà. Ancora sms da parte dei nostri telespettatori, sono figlio di un malato, confermo la qualità eccellente del reparto di oncologia. Ancora avanti, perché viene tolta l'assistenza sanitaria alle popolazioni che vivono nel nostro introterra? Non abbiamo diritto anche noi di avere l'assistenza sanitaria? Oppure siamo cittadini senza diritti? Anche noi siamo persone come quelle che vivono in città, vediamo anche il terzo, poi replichiamo, hanno un occhio di riguardo solo i raccomandati che conoscono i medici per tutte le prestazioni. Buongiorno a tutti. Ma secondo lei funziona bene il reparto di oncologia laddove i pazienti rimangono senza medico dal venerdì alla domenica? Da dove cominciamo, professor? Ma io comincerei da quest'ultimo. Questa è una notizia decisamente falsa. Se uno scrive queste cose, perché evidentemente non sa come è organizzato il lavoro all'interno del Dipartimento Medico, dove c'è una guardia interdivisionale, cioè tra i vari reparti, che funziona H24, compreso il sabato e la domenica. Quindi non è vero quello che è stato affermato in quest'ultimo sms. Certamente, come si è potuto vedere, mi scusi direttore, ma era molto chiaro, come si è potuto vedere dagli sms che sono stati appena ricevuti, io credo che ci siano i molto soddisfatti, i soddisfatti e i poco soddisfatti. Ma questo è normale per tutto. Cioè, se lei va dal macellaio, non penso che tutti escano soddisfatti di quello che hanno comperato. Perché noi, per fortuna, siamo diversi l'uno dall'altro e abbiamo delle esigenze che sono differenti l'uno dall'altro. Certo. Ovviamente, insomma, siamo quasi in chiusura per il nostro spazio. Parlavamo in precedenza del fatto, diceva che non sa fino a quando poi lei resterà qui. Sicuramente, insomma, questi sono giorni importanti. Insomma, la Regione ha demandato tutto all'Avvocatore dello Stato relativamente alla possibilità o meno di rescindere il contratto. Alcune riflessioni però possono anche essere fatte. Ossia, è tornato tutto in discussione appena, diciamo, un mese dopo, di fatti, la sua riconferma. Cioè, che idea si è fatta? Al di là, insomma, delle scelte. La politica, fino a che punto c'entra? E poi, insomma, come giudica questa fase a prescindere da quello che sarà l'esito finale? Direttore, guardi, io questa fase, vorrei chiarirla, io questa fase l'ho vissuta in un modo un po' strano. Perché all'inizio, colto di sorpresa, mi sono lasciato un po' traviare da quelle che sono le mie vere passioni. La mia vera passione, cioè il lavoro. Poi sono entrato in una fase, e questo è successo verso settembre-ottobre, sono entrato in una fase in cui ho detto benissimo, io continuo a fare il mio lavoro, come sto facendo. Ieri, per esempio, ho costretto tutti i miei collaboratori stretti del collegio di direzione ad una riunione che è iniziata alle nove di mattina ed è finita alle otto e mezza di sera, senza interruzioni. Quindi, evidentemente, questa mia mania per la passione e per la passione per il lavoro, evidentemente, miete anche qualche vittima illustre, che colgo anzi l'occasione per ringraziare e per scusarmi per l'eccesso di lavoro di ieri. Però, ritornando alla sua domanda, io sto vivendo questa cosa in una maniera assolutamente serena, non sono per nulla sconvolto, perché, come ho già avuto modo di dire a una sua collega una settimana fa, due settimane fa, avendo un background professionale che mi consente di riciclarmi in qualsiasi momento, dedico il mio cervello, il mio lavoro, all'attività della ASL di Teramo, fin tanto che la ASL di Teramo avrà bisogno di me, poi mi troverò altre collocazioni senza nessuna problematica. Sì, ma è altrettanto vero che comunque ci sono, lei diceva, un background, professionalità acquisite che magari si rischia di essere offuscate relativamente a queste polemiche, a dei disservizi più o meno veritieri, amplificati. Ha mai pensato di dire mi dimetto? Questa riflessione l'ha mai fatta? Ma guardi, mi scusi, io le faccio una domanda. se un politico che viene eletto dal popolo ha presentato nel suo programma elettorale il, facciamo l'esempio, il risanamento di una provincia e la risana nel corso del suo mandato e verso la metà o tre quarti del suo mandato qualcuno gli dice perché non ti dimetti. secondo lei quello si deve dimettere? No, questo no. Ecco, appunto. Allora, guardi, io mi trovo più o meno nella stessa condizione. Io sono stato chiamato dalle massime personalità politiche regionali le quali mi hanno chiesto se volevo fare questa esperienza di general manager dell'azienda. L'ho accettata con entusiasmo, mi sono stati dati degli obiettivi che ho raggiunto al 110, 120, 130% mettendo in campo altre idee nuove. Lei ha visto anche uno degli SMS che parlava delle grandi progettualità che abbiamo messo in campo. Per esempio, l'idea di cui io ho parlato anche in questa televisione della assoluta indispensabilità di avere nel Mazzini un grosso dipartimento di emergenza e accettazione centrale rispetto ai due corpi evidentemente sono azioni che rientrano nella mia attività. Bene, io ho soddisfatto abbondantemente gli obiettivi che mi sono stati dati. Perché dovrei pensare di dimettermi? Non lo so, non ho rubato, mi scusi, non ho rubato, non ho mancato di rispetto a nessuno, faccio onestamente e tranquillamente il mio lavoro, queste polemiche mi lasciano veramente del tutto indifferente. probabilmente io le facevo questa domanda, forse era anche una forma di provocazione, se lei avesse fatto un passo indietro probabilmente avrebbe tolto le castagne a qualcuno in questo momento. Beh, questo non lo so, questo non sono in grado di poterlo dire né di poterlo giudicare, non so a quale castagne lei faccia riferimento, però evidentemente non avendone cognizione non sono in grado di poterle rispondere. Altro sms, carissimo Presidente, può fare qualcosa per far sistemare la pineta, potatura delle piante e abbattimento di quelle secche alle spalle del vecchio e del nuovo ospedale? Conto sul suo operato, tieni duro. Questo tema è importantissimo perché proprio l'altro ieri nella riunione di cui stavamo parlando poc'anzi a proposito dell'ospis si è discusso questo tema e io ho chiesto specificatamente ai tecnici di parlare con i responsabili della forestale per vedere quali sono gli alberi che possono e debbono essere abbattuti e che cosa invece si debba preservare in maniera scientifica della pineta. La pineta che è un bene comune, non dimentichiamo che quella zona che era la zona sanatoriale era tutta una pineta. Quindi evidentemente quello è un bene della città che va preservato a tutti i costi. Altro sms che avevamo intravisto sarebbe il caso di fare trasmissione del genere in contraddittorio? Se il professore è d'accordo potremmo anche programmarla sicuramente insomma in vari mattutini lo spazio non è elevato però le fa una promessa ce la fa direttamente la organizzeremo. Direttore anche se io odio i talk show ma non ho nessun problema perché avendo i dati di quello che dicono non ho nessun problema a portarli in campo. Direttore ma come lo aprite l'ospis se mancano gli infermieri non si assume mai? Ma questa è una cosa che non è vera intanto ecco questo per esempio è una di quelle cose che non è vera perché io sono appena uscito da una riunione di qualche giorno fa in cui si è deciso l'assunzione sono già banditi tra l'altro i concorsi l'assunzione di qualcosa come 50-60 infermieri quindi evidentemente guardi io vorrei chiarire ecco prendo questa occasione per chiarire un altro punto la differenza tra un manager di un'azienda e uno che deve occuparsi di politica è che il manager dell'azienda non è che deve portare in pubblico perché io non ho interesse a essere rieletto la prossima volta deve portare in pubblico quotidianamente i risultati del suo lavoro i risultati del mio lavoro li vede la gente che va nei nostri ospedali che si trovava in una condizione e oggi si trova in un'altra condizione quando per esempio mi scusi quando per esempio io penso alla azione che stiamo facendo per una esplosione addirittura della medicina territoriale parlo della futurissima cioè a poco apriremo il poliambulatorio di Montorio il poliambulatorio di Martinsicuro quello di Sant'Egigli Invibrata cioè sono operazioni che hanno una importanza storica a mio modo di vedere e io non credo che io ogni giorno mi devo presentare in televisione a dire quello che stiamo facendo e quali sono le risultanze del nostro lavoro se i telespettatori ci tengono molto io lo posso anche fare per un periodo per esempio come lei ricorderà ho fatto un comunicato stampa quasi ogni giorno poi mi sono accorto che non faceva altro che alimentare le polemiche di qualcuno che vive di polemiche che non sono certamente io e quindi evidentemente ho interrotto quella abitudine ma è normale per esempio che i nostri telespettatori sappiano di che cosa stiamo facendo di importante nell'ambito dell'assistenza sanitaria di questo territorio provinciale un'ultimissima cosa prima di salutarci proviamo un attimino a guardare oltre se poi ritiene giusto rispondere immaginiamo che alla fine di questo percorso la regione decida di riscindere il contratto lei ha intenzione di impugnare oppure no è una valutazione prematura oppure come intende muoversi come ho avuto già modo di dichiarare io amo fare le cose in maniera scientifica mi deriva dalla mia educazione e da quello che sta tutto il mio percorso di vita quando la decisione sarà presa dalla regione in un senso o nell'altro io valuterò tra l'altro con il supporto di valenti avvocati come mi debbo muovere e mi muoverò di conseguenza per ora non sono in condizioni di dire alcunché pensi che io ancora non ho per esempio preso visione del famoso parere dell'avvocato Tedeschini di Roma che è arrivato alla regione che io ancora non ricevo per conoscenza bene tornando all'sms di prima prima di salutarlo ovviamente insomma le strappiamo la promessa di fare un altro incontro almeno un altro incontro in contraddittorio noi la ringraziamo ovviamente per la sua presenza c'è un ultimo sms come mai ha tolto i medici dalle ambulanze lasciando solo gli infermieri senza la necessaria formazione? intanto non è vero che gli infermieri che non hanno la necessaria formazione perché gli infermieri che sono sulle ambulanze hanno tutti una ottima formazione sugli interventi di emergenza poi il fatto di aver tolto i medici non dipende io non dimenticherò mai la prima volta che è arrivato Zuccatelli come subcommissario alla salute della nostra regione lui ha fatto una riunione e il suo esordio fu in questa regione contrariamente a quello che succede nella mia regione cioè nell'Emilia Romagna si sta abusando dei medici sulle ambulanze che sono assolutamente non necessari questa è una dichiarazione del subcommissario alla salute noi sicuramente abbiamo molti più medici nelle ambulanze di quanti ne dovremmo avere torneremo ad affrontare questi temi con piacere anche perché questo è un campo che mi stimola molto il professor Varassi che ringraziamo per la sua partecipazione noi ci fermiamo qui diamo la linea alla regia poi ci risentiamo tra qualche istante con il secondo ospite grazie a tutti